Ciao da Laura! Avete appena cambiato casa o il vostro piano cottura è obsoleto? Beh, una possibile opzione potrebbe essere quella di acquistare un classico fornello a gas. I fornelli a gas sono tra gli apparecchi destinati alla cottura maggiormente diffusi nelle abitazioni. Questa tipologia di fornelli ha il pregio di non comportare alcun vincolo particolare sui materiali delle stoviglie utilizzate. Esistono sia fornelli da incasso utilizzate nelle cucine, sia fornelli portatili da utilizzare ad esempio in campeggio o situazioni dove la mobilità diventa necessaria. A seconda delle esigenze dello spazio disponibile i fornelli a gas possono essere da 1 a 6 fuochi. La loro efficienza energetica è piuttosto bassa ma sono i più diffusi ed economici. Ci sono diversi fattori che possono influire sulla scelta del fornello a gas giusto per le vostre esigenze, e oggi andrò ad elencarvi i punti principali che dovrete tenere in considerazione durante l'acquisto. Cominciamo. Numero 1. Dimensione. Le dimensioni del piano sono proporzionali al numero di fuochi di cui il fornello è dotato. È necessario verificare dunque le proprie misure del piano di casa prima di procedere all'acquisto. La dimensione più comune nelle abitazioni è il modello 60 con 4 fuochi e di 56 x 48 cm. Il modello più grande è di 90 dedicato alle famiglie numerose, e alle cucine più esigenti. Asse fuochi e le dimensioni del foro d'incasso sono 85 x 49 cm. Numero 2. Superficie. I piani cottura possono essere di materiali diversi. Abbiamo l'acciaio inox, il più delicato perché può graffiarsi e richiede una pulizia costante. Una buona alternativa potrebbe essere l'acciaio satinato antigraffio, meno estetico ma più resistente. Un altro materiale è lo smaltato, facile da pulire ma si scheggia in caso di urto con oggetti pesanti. Infine abbiamo il vetro, facile da pulire ma molto delicato, da evitare se l'utilizzo del fornello è frequente. Numero 3. Griglie. Possono essere in acciaio smaltato, inox o con una griglia di metallo leggero. Le ultime sono preferibili ma la scelta deve essere fatta in base alla propria esigenza, la facilità di smontaggio richiesta per la pulizia. Molto spesso le griglie sono venute assieme al fornello gas da incasso ma è possibile anche acquistarle separatamente per poterle sostituire in caso di danneggiamento di quelli originali. Questo è tutto, potete trovare il fornello gas perfetto per voi su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui sotto in descrizione. Se il video vi è stato utile mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ciao, alla prossima!